Ciao e benvenuto su Digital Toolcase, un video molto veloce perché c'è una grossa direi novità oggi per quanto riguarda OpenAI hanno annunciato l'arrivo di Dali3, il generatore di immagini generazione numero 3 stavo dando un'occhiata pochi minuti fa al loro canale Discord e c'è questo annuncio che hanno pubblicato il nostro text to image model Dali3 può adesso tradurre richieste molto più precise, estremamente dettagliate in immagini accurate e poi ci sono appunto alcuni esempi, c'è un link alla pagina ufficiale dove presentano Dali3 e soprattutto specificano che arriverà presto su ChatGPT Plus e Enterprise quindi per approfittare di Dali3 bisogna avere un'iscrizione a ChatGPT Plus, purtroppo per ora è così ma ovviamente i loro modelli di generazione immagini sono a pagamento eccola qua la pagina principale, Dali3 capisce molto meglio tutti i piccoli dettagli rispetto ai sistemi precedenti quindi ti permette di tradurre le tue idee in eccezionali e super accurate immagini e qui ci sono degli esempi la prima cosa che noto è che c'è del testo dentro questa immagine quindi forse finalmente un generatore di intelligenza artificiale delle immagini riesce a interpretare il testo perfettamente ho fatto un video su alcuni tool qualche giorno fa c'è qualcosa che comincia ad avvicinarsi alla creazione del testo ma qui sembra proprio fatto molto bene speriamo sia così qui ci sono altri esempi di immagini davvero dettagliatissime qui c'è un esempio di questo tipo di immagine molto 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 interessante in stile cartoon ma forse neanche cartoon sì cartoon ma in questo genere molto particolare ci sono altre indicazioni i sistemi moderni text to image hanno la tendenza ad ignorare parole o descrizioni e quindi forzano gli utenti a imparare il prompt engineering dall'i3 invece rappresenta un passo avanti nell'abilità di generare immagini che aderiscono perfettamente al testo che fornisci altri esempi in uno stile completamente diverso è costruito nativo in chat gpt e quindi dentro chat gpt dentro la chat si potranno come vedi creare le immagini direttamente quindi molto comodo ripeto però servirà l'iscrizione a chat gpt plus e qui ci sono altri esempi i dettagli sono davvero pazzeschi insomma siamo a dei livelli incredibili quindi lo sappiamo mi journey è attualmente il numero uno ma dall'i3 immagino gli darà del filo da torcere guarda anche questa immagine com'è definita con il prompt ovviamente che hanno utilizzato per creare questa immagine e questo è non c'è una data precisa ma di solito quando danno queste comunicazioni nel giro di qualche giorno poi il modello è disponibile quindi su chat gpt plus se lo utilizzi o se non lo utilizzi magari è un motivo in più per farlo sta per arrivare dall'i3 se ti è stato utile questo video spero ovviamente clicca su like iscriviti al canale e naturalmente come sempre grazie per essere stato qui per questi pochi minuti ci vediamo nel prossimo video